chi è pronto ciao ehi nastia facciamo un giro sì che bello ok vengo a prenderti alle 6 ok viva un appuntamento oh no un brufano tesoro che succede non sono bella perché dici così vieni fuori voglio vedere guarda lo hai visto credo di sapere cosa fare ecco che cos'è lo nascondo un momento un momento niente da fare proverò qualcos'altro il mio appuntamento ecco qua indosserai una maschera questa proviamone un'altra ecco qua proviamo questa questa no un momento un momento questa andrà bene vediamo non sto mica andando una festa di carnevale serve una medicina aspetta qualcosa di interessante ecco pronta chiudi gli occhi adesso vedi papà il principe è arrivato fai qualcosa per favore per favore per favore per favore nuova crema super efficace per i brufoli ordinala adesso forza veloce veloce salve abbiamo bisogno di quella crema assolutamente veloce veloce l'unquento 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 papà papà veloce urrà apri apri la porta si se n'è andato oh facciamo esperimenti andiamo 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 facciamo un vulcano sei pronta metti gli occhiali wow 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 devo comprare qualcosa una mucca una mucca la comprerà la mucca è in saldo? si è in vendita wow andiamo la compro ok andiamo a casa oh un trattore vendimi il trattore per favore ok compralo hoppame Ok! Ok! Latte! Chi vuole latte? Chi vuole latte? A me piace il latte! Ciao, ciao! Comprerò qualcos'altro! Cos'altro hai? Vieni, ti mostro! Compra una capra! Ecco i soldi! Formaggio e latte! Oh, mi piacciono il latte e il formaggio! Toc toc, c'è qualcuno? Voglio del formaggio e del latte! Vieni! Ciao! 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 Ho ancora soldi! Compra un porcellino! Salsicce! Chi vuole salsicce? Chi vuole salsicce? Voglio salsicce! Veloce! Al mercato! Pollo o cane? Pollo o cane? Ma le scelgo? Me, me! Prendi me! Comprerò il cane! Prendilo! Lui non mi dà niente! Dove sono il latte e il formaggio? Io sono fatto per il divertimento! Ho speso tutti i miei soldi per te! Ho speso tutti i miei soldi per te! Adesso andiamo a prendere i pirati! Veloci! Veloci! Prendete le armi veloci! Ehi, aspettate! Ho 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 ho! So if you cannot hear us! If you don't hear us! We scream a little louder! 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 Ha 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 ha! Oh! Oh! Un u第二個! Cosa state facendo? Guardate! Cos'è? Correte là! Bel lavoro! È troppo pesante! Che paulone! Siamo pirati! Forza! Tiratele fuori! Guarda quante chiavi! Forza! 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 Wow! È il tesoro! Bel lavoro! Ridammelo! Ridammelo! Hooray! Forza ragazze! Battiamo i maschi! Ehi, fermatevi! Aiuto! Aiuto! Preso! Allora amici, alla prossima festa! Ciao, 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 ciao!